cari figlioli salve ben ritrovati sul canale io come sempre sono dave scusatemi se parlo piano ma è davvero notte fonda sono anche molto stanco però non ho voluto rinviare questa registrazione perché altrimenti so già che poi avrei procrastinato fino a chissà quando ho alle mie spalle il nuovo S Plus il nostro pentolone industriale che una volta era laggiù da quella parte adesso l'abbiamo messo qua vicino all'entrata così mi torna più comodo quando devo smerciare tonnellate e tonnellate di frutti di bacche che cosa vediamo in questo episodio? beh facciamo una cosa diversa con questo DLC hanno introdotto un nuovo sistema di keyboard direi decisamente più semplificato è un sistema tra virgolette in versione beta che a quanto pare verrà poi adottato anche per gli altri tutti le altre mappe magari dopo vi metto uno screenshot con le varie caratteristiche allora fatemi leggere ci sono le uova piccole piccolissime scusate poi ci sono le piccole le medie le grandi le extra large e poi le speciali io direi quasi quasi oggi ci vediamo le extra large come vedete le uova sono state suddivise in dimensioni non più in una miriade di uova che ci obbligava ad avere veramente l'arca di Noè all'interno per poterle farmare per esempio l'uovo extra large ci vuole l'uovo di Bronto ci vuole l'uovo di Giga ci vuole l'uovo mi sembra di T-Rex Tech oppure T-Rex Zinosauro e via dicendo allora proviamo a farlo io non le ho mai fatte anche perché non sono uno che utilizza le kibble semplicemente perché per quanto riguarda gli erbivori ne tamo pochi di livello alto magari il Bronto ecco per il Bronto servirebbe per tutte le altre non è che mi servono le kibble mentre per i carnivori abbiamo la carne prime quella speciale e poi quella di Montone che veramente rendono il timing molto veloce quindi tutto oddio che era struma tutto sommato non ne sento la necessità però vediamolo insieme anche giusto per capire come funziona per farlo scoprire anche a chi non ne conosce questo sistema incominciamo a prenderci qualche uovo di Bronto prendiamone uno vediamo se uno è sufficiente ho spostato anche il collettore che ci raccoglie le uova da laggiù l'ho messo qua che ce l'ho più vicino così mi torna più comodo anche perché poi le uova di Giga pesano proviamo con una sola vediamo se è sufficiente io ho già riempito tutto con un sacco di bacche guardate quante allora proviamo a vedere kibble eccezionale fatta con l'uovo di extra large mi richiede 10 major berry quindi queste qua le miglior bacche poi mi chiede il fiore raro un fiore raro per farne una noi ce ne prendiamo un pochetto che c'ho qua giù tanto ne abbiamo davvero tanti troppi ne abbiamo ah guardate ho tamato lui bellino e l'altro giorno ero in giro per la mappa a cercare un altro giga corrotto di sesso opposto di quello che abbiamo noi per fare gli ovetti però non l'ho trovato e ho trovato lui era un bel livello poi purtroppo la mia viverna l'ha smangiucchiato durante il timing me l'ha un po' sputtanato però vabbè cose che capitano allora poi vediamo l'ingrediente successivo vuole uno di chili focoso ok il chili focoso vediamo un po' come si fa vuole carne cotta limoni e poi di nuovo un sacco di bacche quindi andiamoci a prendere i limoni sotto nella nostra sera poi sicuramente ne ho anche nel frigo però andiamo qua così le raccogliamo un pochettino la sto un po' trascurando stasera eh mannaccia ok ce ne ritorniamo sopra blocchiamo in tempo guarda che bloccaggio perfetto ci buttiamo dentro questo qua ok adesso dovrebbe partire carne carne cotta tolla carne cotta dovrebbe partire tecnicamente sì ok ecco il nostro chili focoso e poi vediamo 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 non ci serve più nient'altro quindi tecnicamente già così mi dovrebbe fare le kibble vediamo adesso non so quante uova mi chiede tecnicamente un uovo per ogni kibble credo io allora non me lo sto facendo però sto leggendo che tutte le ricette richiedono 5 di fibra e mortacci vostri mettetelo nella lista allora fibra fibra adesso non mi ricordo onestamente dove che ce l'ho la fibra non ci gioco da tanto dark saranno almeno 10-15 giorni credo e ovviamente non ricordo dove ho la fibra vabbè andiamocela a fare tanto con le nostre creature con gli orsi ci si sta davvero un secondo ci prendiamo il nostro orsetto tutto rosso rosso che carini che sono ti do ancora un po' di da la miseria va col danno tutto danno sì cattivo violento ci andiamo a raccogliere qua ci spugli ormai non ce ne sono più vediamo un pochetto ho spazzolato tutto col bronto e poi ci ci impiegano parecchio a ricrescere andiamo qua giù ok guardate come sprinta ok tastino sinistro guardate nel raccogliere veramente un sacco di fibra ok ok vediamo proviamo sbatterci la fibra vediamo se parte sta kibble no come non detto per fare questa kibble qui mi servono tutte altre cose però non so perché c'era quella quella ricetta lì che era totalmente diversa serve carne di pesce pregiato e se non sbaglio sotto abbiamo i salmoni fiore raro mezzo berri elemento quindi in più ci serve l'elemento che ci può ce ne abbiamo veramente tantissimo vediamo un pochetto tipo qua mille quanto ce ne va 20 per ogni kibble sì ce ne abbiamo tanto ok e poi pesce pregiato andiamo qua sotto a farcelo eccoli qui ecco le nostre prede guardate come vengono tutti felici al massacro sì venite venite ok ci mettiamo vediamo un pochettino sette pezzi vediamo quanti me ne chiede due per ogni kibble eccola qua figlioli eccola qua ce ne escono solamente tre perché ci vorrebbe altro pesce pregiato non mi ricordo quale è il berionix forse se non ricordo male ricava tantissimo pesce pregiato ok figlioli ne abbiamo tre guardate che belline sono kibble eccezionali ce le mettiamo in frigo subito subito allora proviamo a farci la kibble superiore e vediamo un pochettino ci chiede prime essiccata vediamo se ce l'abbiamo credo di sì ok non ce l'ho quindi non la possiamo fare vediamo invece una kibble oh ci vuole il fungo per fare quella basica ci vuole il fungo ci vale la carne cotta normale che per nostra fortuna ne abbiamo tipo così prendiamo il legno funginio ne vuole 5 per ogni kibble si ne abbiamo abbastanza poi ci va il limone che abbiamo già messo e sbattiamo dentro così poi vabbè ancora fibra acqua e miglior bacche e dovrebbe uscirci adesso aspettate dobbiamo mettere l'uovo l'uovo medio l'uovo medio vediamo un pochettino del diro del compi del dodo ah pensavo che il dodo fosse micro invece no di dodo per fortuna ne abbiamo tantissime perché abbiamo i due dodini lì che ci danno veramente giù un sacco eccolo qua 133 venite a me ok vediamo un pochettino se ce le produce ok eccole qui bene figliuoli beh come vedete tutto sommato non è difficile ci sono certi c'è sempre un componente strano quindi mi domando se dovranno mai inserirlo anche in the island questo sistema queste cose strane qui dove le prendiamo tipo questo oppure un'altra keyboard serve il cristallo blu nell'altra serve la polvere di elemento quindi non lo so vedremo bene cari figlioli spero che questo video vi sia tornato comodo mi raccomando lasciate un bel like condividete e noi ci vediamo prestissimo in un altro episodio ciao a tutti